ciao kylip ciao grandissimo alla fine ci ho ripensato sai alla fine ci ho ripensato eccoci qua alla seconda parte in realtà volevo andare a dormire però oh guarda non solo ci sono cioè livello completato l'abbiamo fatto abbiamo preso 2 sul 6 poi se prendiamo la stella e completare senza morire senza interruzioni poi abbiamo tipo il tempo in 14 minuti e 30 minuti abbiamo fatto 38 minuti quel livello quindi non si deve proprio spita andare se vogliamo il 100 per cento il 100 per cento ci vuole di spitalia guarda via la sopra però dovevamo andare la sopra ok siamo al secondo piano forse un livello equa ora il tratto giro ci diamo l'azio questi saranno collezionabili che non abbiamo sbloccato kylip se ci sembra il colpo che devo dire una cosa ma lo dico se sono sicuro che tu ci sia 1 2 3 prova 1 2 3 prova sì in teoria mi dovreste sentire sticcavi oh 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 no oh oh ok 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 non dimentichiamoci cosa possono fare il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sto cercando di capire C'è qualcosa che mi sfugge Qua ci siamo, però poi Forse c'è qualche oggetto prima Che magari possiamo spostare No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci cade come un fesso. Grazie. Aspetta, c'è lì sopra un collezionabile. Grazie a tutti. 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 Devo stare attento all'oscurità perché quella è più forte. Grazie a tutti. 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 Allora... Fili troli bello? Fili troppo. Fili troppo. Bello bello bello. Un po' strado va bello. Un po' strado va bello. Alcuni quadri sono... ... ... ... ... ... ... ...